C'è ancora attesa per la decisione dell'Assemblea dei Soci dell'Arezzo Fiere Congressi sul futuro di Ora Rezzo e Gold Italy dopo il rinvio della scorsa settimana al 7 febbraio. Intanto il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha incontrato gli ora fiaretini a Vicenza Oro per raccogliere il loro parere sulla cessione delle mostre orafe al gigante IEG nato dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza. L'opinione è stata sostanzialmente la stessa per tutti, cioè ho torto collo, se questo deve essere il modo per non mandare in fallimento Arezzo Fiere Congressi va bene, affittiamo questo ramo d'azienda con alcuni vincoli, alcune precisazioni, soprattutto quello che gli eventi si mantengono ad Arezzo ma questo era quasi scontato. L'altro sul quale probabilmente ci sarà da fare qualche cambiamento nel contratto, sembra che si possa sviluppare tra Arezzo Fiere Congressi e IEG, che è quello di non impoverire questi eventi. Dal punto di vista dell'amministrazione comunale è quello che io sento fortemente la necessità che il Consiglio si esprima sull'argomento e mi dia un mandato per poter poi presentarmi il 7 all'Assemblea e poter votare una risoluzione. Quello che io ho badato a dire e sul quale nella seduta di Consiglio Comunale che precederà quella aperta del 2 di febbraio parleremo e che io proporrò all'Assemblea è quello di far sì che non solo l'oro venga venduto o venga affittato a IEG, ma anche tutto il complesso di attività espositive congressuali che dovrebbero essere la colonna vertebrale portante dell'attività di Arezzo Fiere Congressi nel corso di un anno. C'è non solo 2, 4, 6 eventi ma tanti eventi, magari anche non grandi, ma in grado di portare in città nuova forza turistica.